C'è un solo vero eroe, il miglior uomo della storia. Si chiama Gesù Cristo. Non aveva servi e lo chiamavano Signore. Non aveva lauree e lo chiamavano Maestro. Non aveva eserciti e i re della terra lo temevano. Non ha vinto battaglie, ma ha conquistato il mondo. È cresciuto in mezzo agli uomini come uno di noi. Ha insegnato la parola di Dio come nessun altro prima di Lui. Rifugio per i peccatori, consolatore degli afflitti. Medicina per i malati e liberatore degli oppressi. Più di ogni altro profeta, più di ogni altro insegnante. Ci ha mostrato le vie dell'amore e ci ha indicato i sentieri della giustizia. E con ingiusta sentenza è stato tradito dal suo stesso popolo. Mi ha amato senza che io nemmeno lo conoscessi e si è sacrificato al posto mio per donarmi la vita. E' morto, sì, ma il terzo giorno è risuscitato. Per questo ancora oggi Egli vive e cammina in mezzo a noi. Porto sicuro per gli erranti e strada per l'eternità. Re dei re, Signore dei signori, principio e fine, alfa e omega, unico, vero Dio. Grazie a tutti.